Difendete le vostre opinioni. L'hamburger ha una struttura impilabile che permette di personalizzarlo secondo il proprio gusto individuale. La sua architettura aperta sui lati fornisce una visione chiara di quello che c'è dentro e, per la sua forma perfettamente aerodinamica, molti esperti ritengono che i burger sia il dono gradito di una civiltà più evoluta proveniente dallo spazio. In conclusione, i burger sono buoni. Vi ringrazio. Ola, amigos! È mio assoluto onore cantarvi una canzone sul cibo più amato in assoluto dalla gente di tutto il mondo! Il burrito, il burrito meraviglioso e buon da mangiar! Il burrito, il burrito con ogni delizia che vuoi! Da-da-da-da-da da-da-da-da-da burrito, finezza, burger, schifezza! Da-da-da-da-da da-da-da-da-da burrito, finezza, burger, schifezza! Ben con ketchup insalata con hamburger e pantostato è un burger! Che-che? È un burger! Che-che? Ben con ketchup insalata con hamburger e pantostato è un burger! Che-che? È un burger! Che-che? Che-che? Quella è la mia canzone del burrito! Che burrito sono molto meglio! Smettetela, ragazzi! Au! Allora? Il verdetto? Per me sono entrambi soddisfacenti! A me non interessa! Ci servirà un test di assaggio per decidere! Questi titani del gusto sono veterani del combattimento in cucina! Guardate che concentrazione! Incredibile! Non ho mai visto niente di simile! Stupefacente! Riuscite a credere a quello che state vedendo? Molto buono! Oh, delizioso! Mmm, yum! Sì! E vai, baby! Ehi! Dovete ripulirvi il palato! Senta quell'orrendo sapore di burrito! Molto buono! Oh, delizioso! Mmm, yum! Ma qual è il migliore? Non possiamo convenire che ad alcuni piace un cibo e ad altri ne piace un altro? No! 哲ulu! Ho, delizioso! No! Una, la, la! La, la, la! Le, ti, tiì! Y si ti, 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 ti... La...